Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignone. In A1 in direzione Bologna, per un incidente risolto al chilometro 210, coda tra il bivio A1 variante La Quercia e Sasso Marconi. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico rallentato tra Badia e il bivio La Quercia. Code a tratti in tutto il tratto toscano dell'autosole in direzione sud. Mercoledì prossimo sera, altre modifiche al cantiere della tranvia a Firenze, spostamento delle corsie di marcia già operative senza variazioni sul flusso. Si ricorda che la tranvia a Firenze effettuerà servizio notturno no stop la notte del 31 dicembre. Trenitalia, linea faentina. Mercoledì 27 dicembre tornano i treni tra Faenza e Marradi. Nei giorni lavorativi ci saranno 10 collegamenti al giorno tra Firenze e Faenza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!